Gentili telespettatori, buona giornata. Attenzione, è un po' contorto questo ragionamento. Gentiloni, commissario europeo, è del PD ed è in Europa. E allora dice una cosa un po' ambigua che si presta al gioco politico delle elezioni. Gentiloni dall'Europa aiuta il PD. Perché? Letta e il PD si sono messi dalla parte di Draghi, fanno campagna elettorale facendo i governisti. Letta dice le cose che io voglio fare sono con il governo, sono con Draghi, mentre Salvini che vuole bloccare le riforme del catastro, eccetera, i balneari, lui fa l'opposizione, più opposizione di Fratelli d'Italia. Quindi il PD sta intendendo la campagna elettorale in questo modo. Salvini la sua campagna elettorale la intende mettendosi praticamente all'opposizione e contrastando il governo. Il PD invece dice per contrastare la destra e le sue idee con le mie idee faccio il governista. Non mi metto anch'io all'opposizione ma faccio quello dalla parte del governo. Dico che sì alla riforma del catastro, sì a quella dei balneari, come dice Draghi. Quindi utilizza i temi in versione governista. E qui viene l'aiuto di Gentiloni dall'Europa che dice praticamente allora il catastro non è nel PNRR, però è una raccomandazione e le raccomandazioni servono per avere sti soldi. Insomma, come dire, non c'è ma c'è. E questo serve per aizzare Salvini che dica appunto no alle tasse sulla casa. Infatti quello che ha voluto fare Gentiloni è riuscito. Con la sua dichiarazione ambigua, io non dico di aumentare le tasse, però ci sono delle raccomandazioni e sul catastro non è vincolante, però è una raccomandazione, le raccomandazioni sono fatte per essere ascoltate, se no che raccomandazioni sono. Dice e non dice perché in realtà il catastro non è vincolante per il PNRR. I balneari non sono vincolanti per ricevere i soldi del PNRR, però Gentiloni fa immaginare che sì. Cioè si sa che no, però lui dice beh ma in fondo, in fondo. E così lo scopo di Gentiloni, quello di far alterare Salvini è riuscito. E Salvini è partito in quarta. No alle tasse sulla prima casa, che in realtà nessuno in Europa dice le tasse sulla prima casa, ma è un giochino che fa Gentiloni, che spalleggia il suo PD per estremizzare le cose e continuare nella campagna elettorale, per additare Salvini e Berlusconi quelli che vogliono farci perdere i soldi e così l'Italia va in recessione, un danno gigantesco, colpa di Salvini che vuol far cadere tutto. E questo giochino di Gentiloni è perfettamente riuscito e Salvini ci è cascato. Salvini ci è cascato con tutte le scarpe. Gentiloni che dice, beh, catastro sì, no, raccomandazione, Salvini è partito, come vi dicevo, in quarta. No, 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 missione compiuta del PD. Era proprio quello che cercavano. Dipingere Salvini come quello che vuole fare perdere i soldi all'Italia. E così Paolo Gentiloni entra a gamba tesa nella competizione elettorale rispolverando la battaglia del catastro. Lui dice è da riformare, in forma più estesa rispetto a quanto deciso dal governo Draghi. Così sovrapponendo il suo ruolo a quello di Enrico Letta, che è il segretario del PD. Intervenendo a Bruxelles per commentare il documento europeo sulle raccomandazioni di primavera ai paesi dell'Unione Europea, ha dichiarato la Commissione, non ha nessuna intenzione di massacrare nessuno. Dice, riguardo alla riforma del catastro, nelle raccomandazioni è scritto che l'Italia è chiamata ad aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato. E, aggiunge Gentiloni, non credo che rappresenti una richiesta di aumentare le tasse, ma una necessità per l'Italia di cui il governo è perfettamente consapevole. Gentiloni ha ribadito che a suo avviso l'aggiornamento poi può essere al rialzo o al ribasso, dipende dalle situazioni. E poi aggiunge, quanto ai consigli al governo italiano da parte dell'Unione Europea, sulle quali ha polemizzato Salvini, ma era quello l'obiettivo, Gentiloni ha indicato che il problema non è dare consigli, ma rispettare regole comuni e raccomandazioni. Quindi rispettare le raccomandazioni. Sulle quasi si basa il piano di resilienza nazionale. Tutto questo è stato deciso e ora ci sono 200 miliardi da usare che in una situazione economica davvero difficile servono. Avete capito che cosa dice? Il catasto non c'è nel PNRR, non è vincolante, però sono delle raccomandazioni sulle quali si basa questo PNRR. Ecco, e così ci sono 200 miliardi sul tavolo in una situazione economica difficile per l'Italia. Avete capito il giochino? Io lo vedo perfettamente. Non è vincolante, però ti stiamo raccomandando di farlo e se non segui le raccomandazioni, caspiterina, sono 200 miliardi. Sì, ma alla fine è tutto un giochino italiano di Gentiloni eletta per far cascare Salvini, che c'è cascato con tutte le scarpe. Insomma, il catasto come abilitante del PNRR. Il collegamento è chiaro, non è vincolante ma è una raccomandazione che insomma, eh insomma, Salvini c'è cascato. Ma è proprio vero che per la Commissione Europea l'equazione catasto-tasse non esiste? Il punto è che Gentiloni pare contraddire lo stesso documento. Nel report sulle conseguenze per l'Italia, l'attuale contingenza economica e sulle raccomandazioni, a pagina 63, si parla esplicitamente della riforma del catasto in un paragrafo in cui si sottolinea come l'Italia abbia un problema di eccessivo prelievo fiscale dal lavoro. È un problema quello del prelievo fiscale ai tasse, no? L'IRPEF, eccetera, eccetera. Che cosa dice qual è la raccomandazione dell'Europa? Spostare la tassazione dal lavoro alla seconda casa, riformando anche i valori catastali. Cioè, che cosa vuol dire? Dice così, le prime residenze sono esenti dalle imposte ricorrenti sugli immobili per quasi tutte le proprietà, nonostante la presenza di un alto tasso di proprietà della casa e la base imponibile corrispondente è obsoleta. Che cosa dice l'Europa? I valori sono vecchi, fuori mercato, ormai non vanno più bene. Tassare giustamente, con i valori giusti, la seconda casa, ma quei soldi metterli nella riduzione delle tasse sul lavoro. Che a me sembra assolutamente giusto. C'è chi dice, ma le case non si tassano. Vabbè, se c'è la tassa, la tassa c'è? Bene. Quindi il discorso non è togliere o no la tassa sulla seconda casa. La tassa c'è. Si parla solo di aggiornare il valore e quei soldi in più che lo Stato incassa li mette nella riduzione delle tasse. Sono due cose diverse. La tassa che sia giusta o sbagliata non è questo il tema. La tassa c'è. Che sia giusta o sbagliata è un altro discorso, un'altra cosa. Ora si sta ragionando solo sulla tassa da aggiornare perché i valori non sono aggiornati. Quindi il discorso ma la tassa non è giusta è un'altra cosa. Sono due cose differenti. Grazie a tutti e arrivederci.